Settima edizione delle conversazioni ravennati al Teatro Alighieri, Massimo Cacciari si confronta con Karl Marx. Buon pomeriggio a tutti, una grande giornata della nostra città, il teatro pieno. Professor Massimo Cacciari a Ravenna per parlare di filosofia, qual è la grande attualità di Marx in questo momento? È ancora attuale? Tutti i classici lo sono, è un autore classico sia dal punto di vista propriamente filosofico che dal punto di vista dell'analisi della società in cui viviamo, quindi è un autore imprescindibile, dopodiché si potrà criticare, si potrà sviluppare, si potrà approfondire, ma si tratta, ripeto, di un autore certamente classico. Un'ultimissima domanda, il teatro è quasi stracolmo, la filosofia tira molto verso il grande pubblico? Eh speriamo, la buona notizia.